i mattelli regalano emozioni oggi grandi emozioni oggi ragazze a riparo un animale o qualcosa l'ha rotto guardate che bello il top dura dura ragazzi piano piano qualcosa viene fuori allora qua c'è un bel bimbotto adesso io cerco il papà un bimbo da solo è impossibile che non abbia il papà papà dove sei papà papà questo è un bel papà veramente qua c'è bello il papà con il bimbo con la fedele zanetta ragazzi qua c'è un piccolino che lasciamo troppo piccolo qui l'ha già preso freddo eh questi fungotti sono belle sane vedermi finalmente se ne sono andati ecco sono attaccati bene guardate un quarto sono due bimbo ma c'è anche il papà eh volete vedere il papà vi faccio vedere il papà il papino il papino eccolo questo è il papà il papino eccolo questo è il papà il papà è il papà il papà il papà il papà è il papà la via che si procede dal mirtillo passiamo alla foglia mai mollare credersi sempre ragazzi è la cosa fondamentale una bella gamba allora ecco uno bello nella foglia ragazzi uno uno mazzucchiato due però guardate questi due i gemelli ragazzi qua c'è un faggio che è spettacolare guardate che faggio guardate che faggio ai piedi del faggio cosa c'è cosa c'è ragazzi tenetevi forte ragazzi tenetevi forte qualità qualità nella foglia abbiamo delle gambe ragazzi ora il bimbo il bimbotto adesso vado alla ricerca del papà un fratello unico rosso della giornata per il momento veramente bello una bomba rossa ragazzi ormai sono giunto a fine giro ma è arrivato il problema del giorno adesso vi spiego subito perché guardate un po' qua come siamo messi come siamo messi qua ragazzi piccolo grande uomo adesso adesso vai qua ne vedremo delle belle la chiamiamo l'escavatore qualcosa esce urca urca che bomba eh direi che qua è tanta tanta roba ragazzi sano 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 un bel bombolone con lo schiocco con la mia fedele zanetta ho trovato il cugino della bomba di prima ragazzi il suo cugino oppa qua si frigge ancora eh sì qua friggiamo bene con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti